Sua eccellenza il prefetto di Verona, Demetrio Martino, fino a qualche mese fa lo chiamavamo Sua eccellenza prefetto di Taranto, la sua prima edizione di Vinitaly con questo incarico istituzionale molto importante. Sono due città bellissime, Taranto e Verona, anche diverse se vediamo, Taranto mi è rimasta nel cuore e lo rimarrà per sempre. Verona, sto ancora conoscendola, anche se a tappe forzate e questa particolare tradizione del vino di qualità è comuna tranquillamente Verona e Taranto. Mi fa molto piacere rivedere tanti visiti della città ionica e tanti operatori economici che spero di poter avere il tempo veramente di andare a salutare le persone. Un messaggio a tutti i tarantini che ci ascoltano? Il messaggio io ho lasciato, lo ricordo perfettamente, una comunità che era fortemente votivata per avere un futuro diverso, migliore di quello che era il presente allora. Io spero che tutti i tarantini non vogliono abbandonare questo progetto, ma che lo proseguano e troveranno sul loro cammino sicuramente tantissimi altri aiuti e supporti anche da chi sta fuori dalla provincia, ma anche dalla Puglia.